Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il premio Ecoscena, concorso nazionale per artisti professionisti, artisti teatrali che affronteranno le tematiche ambientali. Fase finale del progetto, il 24 luglio, alle ore 21 nel Teatro Stabile di Potenza. Siamo con il direttore artistico Monica Parese. Monica, come si è snodato questo progetto che è arrivato appunto alla fase finale? Allora, innanzitutto è un progetto molto vasto che ha registrato tante sezioni e tanti momenti performativi e formativi, partendo da sedimentazioni, arrivando ad Ecoscena Ragazzi e quindi al premio Ecoscena. Dopo il premio Ecoscena ci saranno le residenze premio con Roberto Latini, Licia Lanera e Scena Verticale. Ovviamente è un progetto dedicato in prevalenza ad artisti under 35, perché crediamo fortemente che il teatro, attraverso tematiche sensibili come quella dell'ambiente, possa valorizzare ancora di più la crescita professionale di un artista, possa completarlo, perché crediamo una responsabilità civile degli artisti. Non ci possiamo esimere dal prendere parte ad una visione del mondo, a un cambiamento del mondo. La compagnia, il gruppo vincitore, verrà comunicato la settimana dopo il premio Ecoscena, online, e dopo ovviamente a tutti i partecipanti verranno concesse le residenze premio di cui parlavamo prima. Il progetto è parte del dossiere, uno dei cinque pilastri del dossiere di Potenza Città Italiana dei Giovanni 2024, Giovani e Ambiente, Antonio Candela, uniti. Sì, tutto il dossier in realtà si è verticalizzato sui temi dell'agenda 2030, con una particolare attenzione a tutti i 17 gol che sono previsti e che in qualche modo sono stati anche richiamati durante la fase di coprogettazione con i tanti giovani che hanno partecipato alla stesura e questo progetto ne è una delle rappresentazioni più belle, perché non solo tutto il processo è stato governato dai temi della sostenibilità, ma addirittura le opere che vedremo il 2024 tratteranno questi temi e quindi ci aiuteranno da un punto di vista di coinvolgimento e anche di attenzione e di sottolineatura dei temi con gli ospiti e con il pubblico ad affrontare questi temi che sono di discussione comune, ma che in realtà molto spesso in qualche modo trovano in questi tipi di attività un'attenzione minore. Direttore, Casa BCC Basilicata ospita oggi la conferenza stampa del premio Coscena di cui siete anche pari. Sì, sono un po' di anni che seguiamo l'abito in scena perché sono molto bravi. I temi che trattano sono all'ordine del giorno ma sono diventati un modo di essere di tutti e per le banche ancora di più, perché la normativa bancaria europea ci impone una fortissima attenzione sui temi ESG. Abbiamo anche l'obbligo di fare un piano ESG triennale e annuale, per cui in queste attività ci si troviamo completamente. La sostegna a questo tipo di attività rientra proprio nella logica di cercare di tenere vivi questi temi e di sostenere tutte quelle attività che ci consentono di recuperare capacità operative sui temi di environment, social e governance.